Ben tornati, ben tornati cari dall'Eccelso, scusate il ritardo per questi videacci, adesso registro, è già tardissimo, martedì, e uscirà subito questo video, poi registrerò il video di Nicola, uscirà quando ci sarà l'ufficialità per Nicola, senza parole, e vi ringrazio molto in ritardo per la live polverone, grazie a tutti per la partecipazione. Tra una cosa e l'altra mi sono perso, sono andato in confusione e non ho più registrato nulla. Allora, fidiamo questo pagellone, centrocampisti e attaccanti fatti assieme, iniziamo subito. Allora, avviso che Prati e Sulemana hanno lo stesso voto, motivo è che secondo me la stagione di entrambi, per essere da praticamente Prati letteralmente esordiente, Sulemana no, però, voglio dire, la prima da relativamente protagonista, è stata una stagione tutto sommato positiva la loro. Il voto è basso, nel senso che è una sufficienza e un 6 più alla simpatia, legata ad una gestione terrificante, terribile, da parte di staff e società, non so chi abbia gestito nel concreto la situazione loro, ma sono stati gestiti molto male. Cioè, c'erano partite dove venivano messi per 4, 5, 6 partite di fila titolari, anche quando magari serviva intervallare un po' questi sprazzi di gioco, per poi stare due mesi in panchina. L'inizio di Sulemana, perfetto, poi ha fatto una gara un po' meno buona, poi in panchina per due mesi, Prati, idem compattate, inizio in panchina, poi titolarissimo per 3-4 mesi che sembrava l'astro nascente, è un giocatore valido, sicuramente, ma è un giocatore su cui su tanti aspetti bisogna ancora lavorare. Il gioco proposto da Ragneri sicuramente anche a lui, non ha aiutato minimamente, per poi ritornare titolarissimo, inammovibile. Quindi, Prati e Sulemana, 6 più per questo motivo, soprattutto sul Sulemana, il prossimo anno sono veramente curiosissimo, cioè Prati chiaramente è più talentuoso, ma Sulemana è un giocatore, secondo me, molto sottovalutatore della piazza, e a me sapete che i giocatori sottovalutati gasano e non poco. Poi, Makumbu, voto 6. 6 perché io capisco che giocare tutte queste partite sia complicato, cioè, nel senso che questo non lo nascondo, lui veramente le gioca praticamente tutte, sempre a 90 minuti. Vi dico, è un giocatore buono, non è un malavaggio giocatore, però in tante partite, delle poche che ho visto quest'anno, mi è sembrato di vedere un giocatore spesso e volentieri con i 10.000 problemi che avevo già visto in Serie B. Chiaramente, in Serie B, poi, da quando è arrivato Ragneri, messo in una certa serenità, e con la differenza di livello tecnico rispetto agli avversari, è chiaro che uno come Makumbu sia poi riuscito ad emergere. Quest'anno in Serie A, in tante occasioni, l'ho visto in difficoltà, gli mancano dei fondamentali, perché comunque i lanci, perché comunque il tiro non appartengono assolutamente a Makumbu, quindi anche su questo devo assolutamente lavorare. Poi, per quanto riguarda Nandez, il voto è un voto completamente, lo ammetto onestamente, all'antipatia che ho verso il calciatore, all'antipatia che ho verso il calciatore, che ha deciso di non far guadagnare un euro per la successione al Cagliari, ad un giocatore che in tutti questi anni ha subito uno storytelling vergognoso, ridicolo, di un giocatore completamente... Completamente, guardate, vi faccio un nome, Nicolas Schiavi, è un giocatore della Carrarese, io l'ho visto, per quanto mi riguarda, lo metterò nel mercato che farei, vi anticipo e se lo vedo in qualche altro calciomercato mi incazzo. Nicolas Schiavi è un giocatore che può sostituire benissimo Nandez, arriva dalla Serie C, ma come lui ce ne sono Abizzefe, è un giocatore, l'unica cosa buona che c'è a Nandez, che gli riconosco sempre, è la duttilità. Questo è un voto che chiude il capitolo, è un voto al Nandez come personaggio che è stato al Cagliari, è un 5, non che la sua stagione sia da 5, chiaramente, nel senso che se la stagione di Sulemane Prati è da 6, quella di Nandez non può essere da 5, non può essere anche da 7, però fa da sé che può essere una stagione sufficiente, ma è un 5 dato all'antipatia forte che provo per Nandez. De Iola, voto 5, me lo dico sinceramente, per quanto gli voglia bene, per quanto io l'abbia sempre difeso, per quanto non sia lui il problema del Cagliari, quando hai De Iola in campo, a livello di palleggio, che comunque non facciamo, ma quando provi a farlo, non si riesce. Non puoi provare a palleggiare con De Iola, e comunque nel calcio che io vorrei, in questo Cagliari, basta. Cioè, voglio dire, basta, ti vogliamo bene Ale, ma non è possibile che ogni anno poi De Iola diventi titolare, perché ha quelle caratteristiche che aveva Lella. La differenza è che appunto Lella, rispetto a De Iola, aveva un margine di miglioramento in quel contesto sardo, molto più grande rispetto a De Iola. Le caratteristiche erano quelle. si è deciso di darlo via, è chiaro che uno poi con le caratteristiche, i tempi di inserimento, l'aduttività, anche qui, di che ti dà De Iola, ce l'hanno pochi, però basta. Però basta. Cioè, nel senso, se si vuole uscire dal mediocre, voglio dire, il passaggio, tramite una cessione, o tramite un panchinamento forzato di De Iola, ci deve essere. Non può essere sempre considerato un comprimario De Iola, perché sennò si rimane lì, cioè, in un giocatore di cuore, in un giocatore che magari ti fa salvare con un gol, con due gol, all'ultime due giornate, ma è un giocatore veramente che nell'economia della partita ti toglie tantissimo, ti toglie più di quando ti dà. Poi, per carità, è un giocatore troppo bistrattato, secondo me, però capite che è veramente poca roba. Poi, Viola. Viola, voto sette e mezzo. Viola ha fatto una stagione stratosferica, potremmo dargli anche otto. È un ragazzo che adesso, io faccio delle considerazioni su il ragazzo uomo che ho conosciuto in questi due anni, non che ho avuto mai nessun tipo di contatto con Viola, assolutamente, ma che ho conosciuto tramite conferenze, tramite Instagram, tramite Diecimila Cose, un ragazzo che comunque, dopo che, secondo me, ha fatto un percorso importante, a livello proprio personale, di introspezione, e sono percorsi che a me affascinano sempre molto, che l'ha portato a rimuovere i tatuaggi dalla faccia, a laurearsi, non che avere i tatuaggi in faccia, però voglio dire, c'è un limite a tutto, alla buon decenza, ed è veramente, secondo me, alla fine di questo percorso, questa serenità interiore, l'ha portato probabilmente a fare la sua migliore stagione della vita, perché, voglio dire, per quanto fosse un panchinaro, ma una stagione così, Viola, in serie A, che io ricordi, neanche col Benevento, se non sbaglio, ci ho giocato il Benevento in serie A, non l'ha mai fatta, praticamente mai fatta, è un giocatore estremamente tecnico, con un'ottima personalità, ripeto, il percorso fatto di introspezione suo, mi attira molto, e spero rimanga anche il prossimo anno, deve essere rinnovato, se non sbaglio, ma spero venga rinnovato, non penso prenda tantissimo di ingaggio, ed è un panchinaro di lusso per questa squadra, se sta bene fisicamente, chiaramente, ma mi sembra di sì, è un giocatore che entra e ti risolve la partita, che è quello che serve a Cagliari in questo momento. E poi, in certi contesti, in certe partite particolari, potrebbe partire da titolare. Youngto, voto 4,5, il mezzo è solo per un gol che ha fatto, non mi ricordo neanche più contro chi, ma la stagione di Youngto è tremenda, è terrificante, anche qua ci sono una serie di problemi fisici che non sono stati approfonditi quando è stato preso, è stato preso su indicazione di Ragneri, senza approfondire la condizione fisica di Youngto, che veniva da un infortunio, che l'ha tenuto fuori tre mesi, mi sembra l'ultima parte di stagione là, è un ragazzo che chiaramente ha anche dei problemi a livello mentale, ma non problemi che debba andare a prendere farmaci, però è chiaro che abbia delle insicurezze, data dalla sua situazione, comunque il calcio è un ambiente di un certo tipo, essere omosessuale nel calcio può portare certi tipi di debolezze, di fragilità, può farle risaltare, però è veramente una stagione indescrivibile, tre infortuni e tutto, quattro e mezzo, Youngto per favore, Cagliari non è un posto per te, Gaetano voto otto, Gaetano voto otto, a questo punto mettiamo anche a Viola otto, perché sono messo Gaetano otto, anche Viola merita otto, chiaramente sono dei voti contestualizzati, nella salvezza e va bene così, poi ci sono voti alcuni anche troppo allargati, qua ci sarebbero quasi tutti insufficienti, voglio dire da un mio punto di vista, però non sono solo loro le responsabilità, sono anche di altri, quindi lasciamo perdere. Gaetano voto otto, perché non mi aspettavo assolutamente che un giocatore potesse arrivare, dopo non aver praticamente mai giocato a Napoli, arrivare e decidere così tanto, scusami, lui è stato, veramente ci ha dato una svolta, cioè, Mina poi per carità, forse scavando, scavando è stato ancora più decisivo, perché ha portato, ha capito quello che si diceva, no, anche su questo canale, soprattutto, metterla in cacciara ogni singola partita, è l'unico modo che ha il Cagliari di salvarsi, Gaetano però a livello proprio tecnico, a livello tattico, è stato il giocatore che più ha svoltato, probabilmente, e l'otto è per questo, perché è una personalità incredibile, mi piacerebbe averlo a Cagliari, purtroppo non sarà così, perché abbiamo un presidente che è indescrivibile, e lo stesso acquisto di Gaetano, sì, ci ha fatto rimanere, il prestito di Gaetano ci ha fatto rimanere in Serie A, però siamo sempre lì, cioè io cosa criticavo questo inverno? Il fatto che prendi un giocatore, cioè, io non mi aspettavo potesse avere questo contributo, ma, veramente, ti rimane poi nulla di questi giocatori, veramente, veramente triste. Poi, Oristagno, voto 7, ed è un 7, che viene dato, al saluto, perché probabilmente non ve l'ha riscattato, ma su questo ci sarà un video, perché sono distrutto da questa cosa, è un giocatore, a mio avviso, fortissimo, a mio avviso, un giocatore potenzialmente devastante, con una garra da mediano, e con dei colpi da numero 10, nostro miglior dribblatore, per quanto mi riguarda, anche molto meglio di Luvumbo, molto più tecnico, chiaramente, a livello realizzativo, molti sono rimasti un po' non soddisfatti, ma, ripeto, sono delle discussioni, che possiamo fare ad un bar, e allora ve lo faccio passare, ma se siete qua per analizzare, per vedere le partite, cioè, Oristagno, guardatevi le partite dove giocava, cioè, Oristagno, che è un numero 10, che è un ala, si trovava a giocare, nella sua metà campo, sempre, e spesso nella sua area, a livello del terzino, andava a coprire le sovrapposizioni, non è questo un modo di giocare, cioè, non può un giocatore arrivare poi lucido, se fa metà della partita, sulla linea del terzino, nostro, è chiaro che non è fattibile come roba, e poi, Mancosu, che è un senza voto, ma è un 4, alla società, che ha deciso di tenerlo, o, non c'erano offerte, ma dubito, anche dalla Serie B, qualcosa ci sarà stato, Zito, voto, 7+, 7+, non è un voto più alto, perché ha iniziato molto bene, poi si è un po' perso, anche qua, complici comunque delle scelte assurde, come metterlo punta, 7+, perché un ragazzo che ha, che ha davvero tanto, tanto, tanto potenziale, che però, va espresso, e va capito, come utilizzarlo, io, sinceramente, non sono, granché d'accordo su sta roba, che possa giocare solo a gare in corso, cioè, io sono dell'idea, sì, vabbè, per carità, poi c'è il giocatore che può essere più adatto a gare in corso, e quello meno adatto, ma, in realtà, se un giocatore è forte, sarà forte dal primo minuto, e dal settantesimo, però, se io devo scegliere, me lo gioco dal primo minuto, così ce l'ho per 70 minuti, quindi, su questo bisogna lavorare, cioè, togliersi dall'idea questa cosa, che l'Uvumbo possa essere solo un buon subentrato, ok? Cioè, io veramente voglio che l'Uvumbo esploda, però, l'Uvumbo, quando può esplodere, può esplodere, se dall'altra parte ci sarà un'ala altrettanto esplosiva, come poteva essere un ristagno, che però non viene riscattato, io, veramente, ho dei seri dubbi, vabbè, faremo un po' un video, però, la situazione è grave, perché qua quest'anno sono salite squadre che i Naci vogliono rimanere seriamente, che hanno i soldi, e qua si rischia, qua si rischia. Shomurdov, voto, 5 più, non aggiungo altro, assolutamente per 10 milioni non riscattare, tolto la fine che gli risparmi al 4, il giocatore, sì, ha fatto qualche buona partita nel giorno di torno, ma voto 5 più, e non aggiungo altro, Petagna, 4, solo perché non voglio scendere sotto il 4, dispiace perché l'ho sempre consigliato, spiace perché è stato preso il 30 agosto, sono convinto che con un dietologo, che con una preparazione fisica, da giugno, luglio, sarebbe stato sicuramente, avrebbe avuto un impatto sicuramente diverso, non mi piace, non mi piace, non mi piace qualsiasi comportamento, quest'anno a livello proprio di professionalità, io poi non lo conosco, però, è chiaro che, i chili di troppo, per quanto io sono convinto che alcuni giocatori, abbiano una certa conformazione fisica, una certa genetica, e questo è chiaro, però lì c'è un problema di dietologo, un problema di intensità degli allenamenti, di serietà, poi, del calciatore, io non lo conosco, ripeto, è una mia supposizione su quello che vedo, dalla maglia attillata, ecco, poi, la Padula, voto 5, veramente alla simpatia, anche qua c'è poco da dire, Pavoletti, voto 6, perché alla fine, gira-rigira, è stato di queste punte il migliore, per quella che erano le aspettative, per quello che ha dato, anzi, se voi andate a vedere i punti che hanno salvato il Cagliari, sono quelli che ha dato solo Pavoletti, quindi il 6 è anche strevinzito, cioè, il 6 è legato al fatto che un attaccante che ti può fare metà stagione, e ti può giocare 5 minuti a partita, ed è legato a quello, se rapportato alle aspettative, mi è la stagione di Pavoletti anche da 8, ecco, quindi questo è quanto, questo è il pagellone, adesso poi registrerò il video di Nicola, ciao ragazzi, un bacione a tutti.